Buongiorno. Buongiorno signora, splendido cappello. Volevo due eti di prosciutto cotto. Prima assaggi questo. Buonissimo, che marca è? Roba mia, parma cotto. Allora me ne faccio quattro eti. Dai, sbrigati, corri. Ma sa che lei è proprio gentile? E' sposato? Anagrafe, cosa vuole due mondi? Io poeta, sognatore, Elena Bussico. Ciao cara, la mia signora, la mia compagna. E cammina, dai il parma cotto alla signora, imbiscina. Sì! Che ragazzina, pensi che ci amiamo così dal primo giorno? Sono vent'anni. Ecco il suo parma cotto. Arrivederci. Ma che ti piace quella? No. Per niente. Chi chiede parma cotto, vuole solo parma cotto. Certo che è una salubria così macchina medica. C'è un pacco dei gambiali, come andai? Buongiorno. Desidera? Vorrei due atti di parma cotto. Dai il parma cotto. E' finito. Ah si? Non vai che te frega. Dai a un altro. Tanto vista quando sarà accorge. Non hai visto? Hai giocato solamente un po'. E dove te ne ha la vaschetta? Mi perdoni, mi guardi negli occhi. Non guarda. Che c'è la vaschetta? No. Eh no. E allora arrivederci. Come arrivederci? E senza la vaschetta che il parma cotto è? Sei andata. E sai perché? Perché c'è il parma cotto. No. Perché a me sta salubria americana. Le portagiello. Cambi là. Falca la parma rotta e fatemi andare la vaschetta. Buongiorno. Zia Costanza. Sono un caro il prezzo che è lungo delle gambe. Zia Costanza. Sarà legare il portagiello. Solo la vaschetta garantisce la qualità. Parma cotto. Buongiorno desiderata. Buongiorno. Vorrei un po' di formaggio e un etto di parma cotto. E mi dispiace signora. Il parma cotto non ce l'ho. Però le posso dare... A me non importa. Mi dia delle olive verdi e due etti di parma cotto. Mi scusi. Forse non mi sono capito. Ho tralasciato. Il parma cotto non ce l'ho. Però le posso dare un altro che è buono lo stesso. A me se non ha quelle verdi mi dia quelle nere. Quelle nere. Però magari me ne fa tre etti di parma cotto. C'abbiamo il parma cotto? No. Eh no. Ho capito. Ho capito. Mi dia quattro a te i parma cotto e non ne parliamo più. Ma che mi ha mandato questo a me? Boh. Se le ghettava meglio. Sta zitto. Che fai? Che ti allarghi? Serve parma cotto? Oh ma puoi venire prima. La signora l'ha fatto alla testa. Pronti con il parma cotto? Dai pure valla a pia. Che fai? Serve altro? No. Chi chiede parma cotto vuole solo parma cotto. Serve le plus bon? Che c'è sta in giro la signora? No. Ci serve niente? Vattene là. Buongiorno. Buongiorno signora serve parma cotto? La vaschetta? La parmella? Le plus bon? Si si bon. Parma cotto presenta le plus bon il prosciutto arrosto. La bontà di un prosciutto superiore, la ricchezza di un grande arrosto. Il prosciutto è bon quando arrosto è le plus bon. E va bene? E vai. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora. Splendido cappello. Volevo due etti di prosciutto cotto. Prima assaggi questo. Buonissimo. Che marca è? Roba mia. Parma cotto. Allora me ne faccio quattro etti. Dai sbrigati corri. Ma sa che lei è proprio gentile? E' sposato? Anagrafe. Cosa vuole due mondi? Io poeta, sognatore, Elena Bussico. E cammina, dai parma cotto alla signora, imbecine. Che ragazzina, è ancora innamorata. Mazza che botta. Mi hai fatto molto male, sai? Chi chiede parma cotto vuole solo parma cotto. Buongiorno signora. Una nuova cliente. Buongiorno. Ce li hai i parma cotti? Scusi ma non li vedo. Mi scanso. Ma poi perché parma cotti? Parma cotto con otto solo. Voce del verbo maschio e singolare il porto dei due. No, io volevo i parma cotti. La signora è di coccio, eh? Eh si, sono di coccio. Chi? I parma cotti. Sono di coccio. Oh mamma mia, che ansia terribile. Ma perché a me mi cammino tutte queste? Brigante! Edi, c'ha l'occhio da matta. Vedemi che scherzi. So circondato. Non mi fate male. Parma cotto, regale i parma cotti. Per averli raccoglie punti sulle vaschette con due etti di parma cotto, parmella o le più buone. E i parma cotti sono di coccio. O di coccio. Mi rimango con questo dubbio. Dormirò. Per pieno, grazie. Bacca e olio? A posto. Poi finimmo fuori strada. No, eh. Benissimo. Chi è? Parma cotto. Ma che è? Parma cotto. Ma tu hai chiesto a pieno? E chi se ne fiega ce lo metti? Io faccio pubblicità solo a Parma cotto. Per piacere! Stiamo lavorando. Ma almeno siamo sicuri che è Parma cotto. Hai visto la fascia? Tu dico io. Metti il moto, va. Ma dove devi andare con queste capre? A chi? A chi? A chi? Che non chiede Parma cotto? Vuole solo Parma cotto. Siete ancora qui? È finito.